Amici telespettatori, oggi parliamo di una cosa molto importante, di un evento che in Sardegna negli ultimi anni, anzi negli ultimi secoli, è successo solamente una volta. Verrà beatificato il 12 di ottobre del 2014 a Sassari padre Francesco Zirano. Un evento di questo genere è accaduto solamente nell'ultimo secolo il 3 di febbraio del 2008 quando è stata beatificata Sor Giuseppina Nicoli. Francesco Zirano è un frate conventuale che è stato martirizzato ad Algeri e di cui oggi noi vogliamo parlare con padre Umberto Zucca che è il maggior biografo di padre Francesco Zirano ed è stato il vice postulatore della causa di beatificazione cioè la persona che ha studiato più di tutti la figura di quest'uomo che ha procurato le prove, provate, che hanno portato alla beatificazione di padre Francesco Zirano e che quindi ci presenta oggi questa bella figura di martire perché lui è un martire perché è morto in odium fidei e quindi adesso ne parliamo con padre Umberto. Padre Umberto, allora il 12 di ottobre ci sarà il rito di celebrazione per la beatificazione di padre Francesco Zirano che per la Chiesa, per i documenti della Chiesa è già beato. Sì, è proprio così. Il rito di beatificazione rende pubblico o autorizza il culto pubblico con intervento anche dei sacerdoti mentre prima ognuno poteva venerarlo, chiedergli grazie, ammirarne le virtù, la costanza nella fede, la forte carica di carità, eccetera. Stavolta la Chiesa lo proclama anche modello di esercizio o di un percorso di vita evangelica da Francescano attuato quattro secoli fa quando lui è morto. Ecco, che dire di padre Francesco Zirano? Ecco, devo dire che la sua causa di beatificazione praticamente è approdata. Scusi, quando è morto innanzitutto? Allora, padre Francesco Zirano è morto nel 1603 quindi esattamente 411 anni fa. Ecco, ma è stato, noi abbiamo detto che è morto in odio un fidei, è stato torturato. Sì. Cosa è successo? In quel momento posso dire l'ultima frase che lui, anzi la penultima frase che lui ha pronunziato. Quando per la terza volta gli hanno chiesto, gli hanno proposto, guarda che se tu ti fai maometano noi non ti torceremo un cappello. In quel momento era nudo, messo, diciamo con le mani legate a destra e a sinistra, come un crocifisso e pronti i quattro boia ad eseguire la sentenza, cioè di essere scorticato vivo. Quindi gli fanno, gli danno una terza volta l'opportunità di avere salva la vita se si farà maometano. Lui cosa dice? Io sono il cristiano, figlio del mio padre San Francesco, come tale voglio morire e supplico Dio che abbiate a conoscerlo anche voi. Ma chi è che lo stava barbaramente uccidendo? Erano dei cristiani rinnegati, tra cui un greco che gli avevano tagliato le orecchie. Lui dice, mi voglio vendicare su di te, visto che non ci sono altri per quello che hanno fatto a me. Muore così, praticamente, lui che era venuto in Africa perché un cugino e confratello non perdesse la fede, perché anche altri cristiani schiavi che gli avevano raccomandato di liberare, anche loro non perdessero la fede per la lunghezza della schiavitù e la durezza della schiavitù, e lui è il primo che non vuole, diciamo, non dico sfigurare, ma testimonia in mezzo ai maometani come si può mantenere la fede anche presso del sangue. Ascolti, Padre Umberto, noi sappiamo che Sassarese, ci può dire un po' qualche aspetto che lei ha trovato documentato sulla vita di questo ragazzo che poi diventerà martire? Sì, io posso dire questo. Del Padre Francesco Zirano, pensate, muore all'incirca a 39 anni, però dei primi 22 anni della sua vita non c'è un pezzo di carta, una riga che ne parli. Poi incominciano a parlarne perché, quando è già diacono, nel suo convento viene registrato come facente parte del capitolo conventuale in cui la comunità prende delle decisioni. a Sassarese, nel convento di Santa Maria di Bethlehemis Sassari. E diciamo anche che anche i documenti che vengono dopo, sino, possiamo dire, al giorno della morte, ne parlano a sprazzi. Il giorno vero in cui si parla di lui è proprio l'ultimo giorno. Perché lei è riuscito a documentare il perché si è fatto frate conventuale, francescano conventuale e come ha vissuto dopo i 22 anni, dopo l'età di 22 anni, quando è entrato lì, ha avuto qualche carico ufficiale, cioè qualche documento? Sì, allora, era normale in quel periodo, teniamo presente, lui nasce nel 1564, cioè all'anno dopo la chiusura del Concilio di Trento. E lui vive quello che abbiamo vissuto noi dopo il Concilio Vaticano II, cioè un tempo in cui la Chiesa viene chiamata a ritornare alle origini. L'ordine francescano nel ramo di fratti minori conventuali fa tutto un cammino di ripresa anche dell'ardore iniziale. Tant'è vero che oggi noi possiamo dire su due santi di quel periodo, gli otto martiri, lui è il primo fra tutti, addirittura, lui è il primo che verrà beatificato, muore nel 1603, ma nel 1603 nasce San Giuseppe da Copertino e quindi ecco, lui apre, diciamo, la schiera dei santi e dei beati fratti minori conventuali. Possiamo dire, in attuazione al Concilio tridentino, come oggi, chi vivrà verrà, chissà quanti santi si potranno venerare nella Chiesa frutto del Concilio Vaticano II. Ci racconti poi della vita di questo, di padre Francesco nel convento di Bethlehem. Ecco allora. Santa Maria di Bethlehem. un tempo in cui le scuole erano rare, tra i tanti analfabeti, lui era fortunato perché è stato messo a studiare. Praticamente, facendo i calcoli, tornando indietro, perché il documento del Papa del 1599 lo dice di 33, 34 anni circa. E quindi, tornando indietro, siamo riusciti a capire che era nato nel 1564. Poi viene ordinato nel 1586. Quindi doveva avere almeno 22 anni o 22 anni e mezzo quando è diventato sacerdote. Da qui. E allora, entra il ragazzo, però non si poteva fare il noviziato se non si erano compiuti i 15 anni. E ugualmente non si faceva la professione se non ha 16 anni compiuti. Quindi, lui inizia il noviziato nel 1579. fa la professione nell'anno dopo, 1580, e sei anni dopo, dopo il percorso umanistico, filosofico e teologico, dopo sei anni di studi diventa sacerdote. Il 31 maggio 1586. Poi, quattro anni normali, dove ogni tanto viene registrato presente i capitoli conventuali del convento. Lui è procuratore in certo punto. E poi nel 1598 lui viene registrato che c'è un documento, un atto notarile che lo certifica, diciamo, che è stato nominato procuratore del convento, quindi presso chiunque nel comune di Sassia, eccetera, si presenterà. Lui è autorizzato sia a donare roba del convento a nome del convento, sia a ricevere per il convento. rappresentante ufficiale dei convento. rappresentante ufficiale. Attività del convento e anche. Allora, i fratti andavano in città e fuori città per la questua, ma andavano anche per la predicazione. Lui non era fratti da... non era un dottore in teologia, però lo vediamo due volte andare alla questua. È documentato ad Osilo a fare la questua del grano. È documentato nella diocesi di Tempio a fare la questua dell'olio. Quindi, come un fratello, ma non era lui solo, anche altri fratti, i sacerdoti che magari non erano, che non insegnavano, dovevano fare quadrato perché la vita del convento venisse portata avanti. A un certo punto alla svolta decide di andare ad Algeri a recuperare, a liberare, a riscattare un cugino, però anche altri. Ecco, allora, cosa era capitato? Un compito che in Sardegna avevano prevalentemente i mercedari, i trinitari. Esatto, diciamo una cosa, in quel momento i mercedari, perché i trinitari arrivano dopo la morte del padre Zirano, quindi in Sardegna non c'erano proprio. I mercedari? I mercedari erano autorizzati ad andare in tutti i paesi attraverso la loro confraternita come oggi potrebbe essere l'ordine francescano secolare, questi laici che raccoglievano nelle varie parrocchie soldi per riscattare gli schiavi. Allora, noi abbiamo due fatti al riguardo. Torno un attimo indietro, no? Padre Francesco Zirano diciamo, quando c'ha undici anni circa, noi abbiamo che c'è la battaglia di Lepanto, dove la cristianità sconfigge la flotta saracena o maometano. Da quel momento non c'è più scontro frontale tra cristiani e maometani, ma c'è una lotta di corsa. Cosa è la lotta di corsa? e quindi corsari. Cioè, dove ogni governo, anche governi cristiani, quindi anche quello spagnolo, autorizzano, diciamo, propri sudditi, soprattutto capitani di barche, che quando intercettano avversari, sono autorizzati a fare man bassa, a fare schiavi, diciamo, gli avversari, e poi a rapinare tutto quello che riescono a trovare. pensate che per Cagliari tra il 1591 e il 1602 vengono registrati 170 schiavi presi soprattutto nel mare della Barberia, ossia del Nord Africa e messi in vendita nel mercato di Cagliari. Nel mercato di schiavi di Cagliari. Però, gli schiavi cristiani sono ben di più se pensate che a quarto in quegli anni ne prendono 500 interi, a San Nicolò di Arcidano 200 insieme, e abbiamo tanti tanti altri casi in cui addirittura gli archivi vescovi di Cagliari autorizzano loro ad andare alla questua magari per un certo sempre per un tempo determinato poteva essere tre mesi, sei mesi, un anno e poi al di là di quello non potevano più. Per che cosa? Per poter racimolare quei soldi necessari e riscattare lo schiavo il familiare che volevano riscattare. Nel caso del padre Francesco Zirano cosa è capitato? Quando lui ha appena quattro anni di messa e il cugino che è frate come lui è appena diacono questo cugino fuori convento viene raggiunto da diciamo da una scorreria di corsari facilmente venuti dalla Zinara perché stazionavano lì perché era deserta quell'isola lo prendono e gli danno come taglia cioè per riscatto bisogna versare 10.000 soldi cosa significa 10.000 soldi? Era il tanto necessario o meglio l'importo equivalente a 11 anni di lavoro di un marinaio libero allora quindi una somma ingente era una somma ingente quando padre Francesco Zirano verrà preso lui addirittura gli metteranno non 110.000 soldi ma 168.000 cioè il prezzo 17 schiavi quindi e allora che cosa capita nel 1590 nei mesi in cui normalmente la Sardegna è assediata da questi corsari che stazionano nelle varie isole deserte e penetrano ogni tanto nell'entroterra della Sardegna diciamo il cugino Francesco Serra viene preso i genitori si attivano subito come lo vogliono liberare a Sardegna c'è uno schiavo turco che si chiama Mustafa loro cosa fanno come era normale soprattutto tra i trinitari che compravano la libertà di uno schiavo turco in cambio della libertà dello schiavo cristiano loro lo fanno quello ritorna in Algeri però per il padre Serra e Francesco Serra niente non lo liberano sapete perché non lo liberano perché lui già da quando è andato per le quattro cappelle dove c'erano i bagni dei cristiani ha fatto un'icona c'è una pala d'altare quindi davanti c'era l'altare quindi una era Santissima Trinità una era Madonna del Rosario un'altra San Rocco non ho trovato l'altro oratorio cristiano qui era dedicato lui ha fatto un retablo per ciascuno di questi oratori per i turchi era una cosa imperdonabile che un cristiano sostenesse la fede dei propri corregionari per cui ogni volta che hanno tentato di liberare lui mai ci sono riusciti lui si libererà perché si farà prestare soldi da un mercante di Valenza e attraverso quei soldi libererà se stesso forse era un privato che lo teneva schiavo libera se stesso e poi una volta libera libererà a sua volta altri 16 schiavi sì ma perché padre Zirano che parte per liberare o per riscattare il cugino il cugino non riesce a riscattarlo cosa è successo allora è successo questo che padre Francesco Zirano dopo tre anni di questo diciamo autorizzata dal papa Clementi VIII e gli aveva detto dal 19 marzo ossia festa di San Giuseppe da lì a tre anni e non più poteva questuare per racimolare i soldi per liberare il cugino con molta probabilità non è riuscito a trovare i soldi perché perché ha incappato in tre annate tremende per la Sardegna 1988 è un'annata in cui c'era stata diciamo una siccità tremenda che aveva portato Eucharistia poi tra autunno 99 e inverno 1600 arriva addirittura una pioggia di cinque mesi pioggia continua che dirava il terreno e tutto quello che è stato seminato niente poi l'anno dopo 1601 le cavallette distruggono tutti i raccolti 1602 quando Parisirano termina l'acquesto ha di nuovo più siccità è una siccità che porta la moria tanti maiorchini che erano venuti a lavorare in Sardegna muoiono di fame e poi alla fine quando ormai Parisirano non c'è più scoppia in Sardegna anche la peste di Vaiolo quindi ha sicuramente fatto una questa diciamo non solamente faticosa ma penosa in misera comunque alla fine è riuscito come la cosa importante ecco una notazione che fa Giovanni Ramirez uno schiavo che era un capo di teatranti che era stato preso schiavo presso Ibiza con tutti con altri e lui testimonia che padre Francesco Zirano quando arriva in Africa si avvicina ad Algeri ci fa vestito da venditore commerciante di lino con ogni probabilità lui aveva raccolto lino in natura e quindi andava lì che cosa ci autorizza a credere questo quando nel 1598 i mercedari di Aragona liberano oltre 200 schiavi tra cui 35 della Sardegna e tra questi addirittura 5 di Sassari hanno portato come prezzo di riscatto di tutta questa gente 5 mila scudi e in merce oltre 6 mila scudi il valore quindi anche allora era più normale pagare in natura perché anche gli africani avevano bisogno di oggetti o alimenti o altro in natura che c'era da noi ascolti quando parte quando è che padre Francesco di Zirano decide di partire per andare allora cioè lui ha fatto l'acquisto allora il breve del papa lo autorizza per tre anni per tre anni poi il primo autore sardo di Cagliari diciamo Antioco Strada dice che lui si recò direttamente dal papa per chiedere di poter partire personalmente a liberarlo perché questo? perché lui era autorizzato a fare l'acquisto non solo presso le diocese ma addirittura presso i patriarchi eccetera il che ci fa dire che in Sardegna deve aver trovato una tale povertà che è andato anche in continente per prolungare l'acquisto è finita l'acquisto è andato dal papa e da lì in Spagna con autorizzazione del re Filippo Terzo con un aviglio in cui viaggia il suo ambasciatore che va al regno di Cucco arriva anche lui in che anno siamo? siamo fine luglio 1602 il mese dopo 21 agosto lui è sotto le mura di Algeri e lì ci va per esplorare il terreno per vedere dove sta il cugino che è fatto schiavo e dove sono e chi sono gli altri schiavi cristiani che i familiari quando lui faceva questa gli hanno raccomandato da liberare e forse gli hanno dato anche soldi per poter pagare loro libertà però lui era preoccupato anche che questo è venuto solo di riscattarlo ma era anche preoccupato che le persone non perdessero la fede ecco lui quindi voleva agire anche in questo campo esatto quando lui chiede nel fine del 1598 al papa di poter andare a liberare il cugino dice che lui è ansioso per il cugino perché ha paura che la durezza e la lunghezza alla schiavitù non lo facciano non gli facciano rinnegare la fede teniamo presente che c'è uno studio di due non so se sono coniugi francesi che hanno scritto un libro titolato cristiani di Allah e attraverso i documenti racimolati in tutti i vari archivi dell'inquisizione d'Italia Spagna Francia eccetera hanno potuto dire che tra fine del 500 e inizi del 600 almeno 300.000 cristiani avevano rinnegato la fede allora un altro dato per far capire questo 1581 tra 35 diciamo aziende di corsari no gruppi di corsari che andavano a questa diciamo rifurtive umane e in oggetti e tra i 35 corsari ben 20 avevano rinnegato la fede e ben 20 di quelli erano dell'area italiana da Genova che ne aveva sei di questi rinnegati Venezia che ne aveva tre poi gli altri c'è anche qualche sardo no nessun sardo in quel momento nessun sardo ascolti ma però mi sembra di aver letto che lui arriva lì e la sua missione si complica perché ci sono delle lotte di potere tra vari tra vari funzionari tra vari governatori e lui rimane un po' il vaso di cocio in mezzo a tanti vasi di ferro è così? proprio così allora lui ha avuto l'opportunità perché gli era dato a Filippo III di viaggiare in un naviglio spagnolo ma con lui viaggia anche il suo ambasciatore presso quel re Sidamar il re di Cuco un regno che nell'attuale Cavidia cioè in quella che noi possiamo chiamare la Svizzera italiana in che stato? in che oggi? in Algeria? vicino ad Algeria sempre vicino ad Algeria ci volevano allora tre giorni di cammino tra Algeria e il regno di Cuco la capitale di oggi di quella zona che ha un milione di abitanti è Tisi Usu lì padre Zierano arriva e si trova intrappolato in questo progetto politico militare di Spagna che vuole aggredire Algeri dal mare e il re di Cuco che è stanco di pagare un tributo esoso alla regenza turca di Algeria il re di Cuco che da terra vuole aggredire la città di Algeria di più 12 rinnegati che hanno ritrovato la fede attraverso Fran Matteo di Aguirre questo ambasciatore che prima era stato schiavo ad Algeria aveva imparato bene l'arabo e conosceva un po' tutti i reticoli della vita di Algeria bene questi 12 schiavi questi 12 rinnegati si erano impegnati a fare entrare i due eserciti quello che veniva dal mare quello che veniva da terra a porte di Algeri aperte perché proprio uno dei rinnegati era uno di tempio Pausania Gavino Pinna aveva la moglie si chiamava Margherita Scano e il figlioletto Pedro e lui questo di tempio aveva frassificato le chiave per entrare in una porta di Algeri ma anche la chiave per entrare dove c'erano le munizioni quindi era tutto preparato già nel 1601 c'era stato un tentativo fallito di acerchiare Algeri così e poi una tempesta aveva scompigliato il naviglio spagnolo e quelli se ne erano tornati e Padre Zirano con chi tratta? allora Padre Zirano il 21 agosto è sotto Algeri il 1602 il 21 agosto il 1602 cosa succede? lui cosa succede? lui è andato lì quindi si trattiene dal 21 agosto al 27 agosto appunto viaggando soprattutto nelle tante ed erano a centinaia le aziende di Algeri aziende agricole dove lavoravano i cristiani schiavi e lui avvicina a tanti però cosa capita? che tre giorni dopo che è arrivato lui un rinnegato che viene dalla montagna ha due missive una diretta a lui e un'altra diretta invece ai rinnegati che hanno combinato l'apertura delle porte della città in quella occasione immediatamente scatta l'allarme per i turchi di Algeri i giannizzeri non vogliono sentire parlare di riscatti per cui padre Francesco Zirano non può fare quello e siccome tra la notte del 26 e la mattina del 27 si scopre chi sono i rinnegati si scopre chi sono i cristiani tra cui c'è un sacerdote portoghese Salvador della Cruz li prendono tutti e chi li appendono ai ganci delle mura chi invece li infilzano come si farebbe per un uccello per gli uccelli con un palo e alcuni tra cui il padre Salvador della Cruz lo fanno morire a fuoco lento e la cosa tragica è che chi fa questo è un inglese che si è preso la cura siccome mancava la legna manda a comprare le legna e poi lui attizza il fuoco per questo guardate ci sono delle scene raccapriccianti una delle tante è questa padre Francesco Zirano impossibilitato riscattare che cosa fa viene arrestato no 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 in quel momento non viene arrestato si prende liberi quattro cristiani che sono negli aziende intorno ad Algeria e li porta liberi appunto fa quei tre del giorno di cammino al regno di Cucco nel frattempo viaggia anche scappando questa famiglia di tempio ed è lì che poi padre Francesco Zirano per quattro mesi ha la possibilità di contattare i cristiani che ci sono lì in alta montagna perché perché Sidamar re di Cucco ha fatto la pace con i cristiani per cui i cristiani possono diciamo hanno culto libero e padre Francesco Zirano ha libertà di contattare e qual'è che la situazione precipita e perché precipita perché il primo settembre 1602 la guerra aperta viene dichiarata l'esercito della montagna scende giù a valle e l'esercito algerino va ad incontrarlo ci sono sei scontri che non hanno che non dicono nulla di decisivo al settimo scontro muoiono quasi mille giannizzeri muoiono una quarantina di cappi dei giannizzeri qualche d'uno alcuni re che erano venuti a sostenere il pascià di Algeri e scappano via e allora Sidamar che ha ospitato il padre Francesco Zirano nel suo stato prende il padre Francesco Zirano e dice tu vai in Spagna e comunica al re Filippo III alla bella nuova di questa vittoria lo manda accompagnato da 40 soldati da 40 mori se non che viene intercettato dall'esercito algerino un altro schiavo testimone del martirio Giovanni Andrea chiamato Sardo ma era di Cagliari lui testimonia che non tanto viene intercettato dall'esercito ma che questi mori forse per paura lo consegnano lo tradiscono e in quel momento il padre Francesco Zirano viene proprio preso portato da Algeri il 6 gennaio 1603 fa l'ingresso e dice diciamo quel capo dei commedianti Giovanni Ramirez che entra da Algeri mezzo nudo scalzo scalzo con le manette ai polsi e con una grande catena al collo mezzo morto di freddo e di fame così lo descrive e lo portano nel diciamo nel palazzo lo portano dal Pascià e il Pascià siccome è un rinagato cristiano è originario di Catania quindi un siciliano non è che gli interessi molto della fede cristiana di padre Francesco Zirano è lì in quel momento che gli assegna come riscatto quei famosi 168 mila soldi il prezzo di 17 schiavi proprio una cifra esorbitante e allora cosa capiterà che durante quelle tre settimane che padre Francesco Zirano rimane schiavo il cugino nel venerdì che diciamo che mi sembra coincida proprio con il giorno no due giorni dopo che padre Francesco Zirano viene portato da Algeri va a visitarlo e gli dice guarda c'è la mala parata per te sento dire che forse ti bruceranno ti bruceranno vivo e lui dice beh piace a Dio che io abbia di essere bruciato come cristiano e poi deve scappare il cugino perché escono dalla moschea diciamo i maometani e se ne va via in una seconda volta che va a trovare il cugino e della vigilia della sua morte gli dice guarda ho sentito dire che domani ci sarà la sentenza di morte e lui che cosa dice beh chiamami un confessore e dice guarda c'è la pena di morte per chiunque ti abbia avvicinare non è possibile ed è allora lui che dice piace al Signore che la mia morte abbia giovare per i coloro che hanno rinnegato la fede in mezzo a questi infedeli quindi ecco lì si palesa ancora diciamo questo anelito missionario cioè è preoccupato non tanto solo della libertà dei cristiani ma che non perdono la fede perché era difficilissimo scappare da lì intanto perché diciamo se si trattava di schiavi giovani o erano per esempio artigiani sapevano fare navi imbarcazioni eccetera era difficilissimo che li potessero liberare qualunque eccetera ascolti padre Umberto allora padre Zirano muore nel 25 di gennaio del 1603 e allora i francescani conventuali francescani in generale visto che è morto a causa della fede professata cominciano a preparare quello che oggi noi chiamiamo un processo di una causa per la beatificazione che viene iniziata nel 1700 no? 1784 allora un attimo allora chiarisco anche come circostanze il guaio ha voluto che padre Francesco Zirano abbia viaggiato con un frate minore osservante in quel momento era un maiorchino in Spagna invece già da 35 anni per i frati minori conventuali si era fatto piazza pulita in tutti i regni della Spagna dei Filippo II quindi anche Portogallo quindi anche le colonie in America frati minori conventuali non c'erano quindi non c'era nessun frate conventuale a raccogliere la testimonianza del suo martiglio che invece e sono stati preziosi coloro che l'hanno fatto a raccogliere testimonianze sembra sia un diacono Juan Fiol che era che verrà liberato nel 1604 un anno dopo la morte del Servo di Dio poi un altro Antonio Dassa che vuole interpellare nel 1606 il testimone oculare dei Cagliari Giovanni Andrea Sardo e lui praticamente perché lo interpella lo vuole interpellare però in maniera ufficiale con un atto notarile lo vuole interpellare di fronte annunzio apostolico in Spagna perché come si iniziavano le cause di beatificazione allora o si faceva davanti al vescovo che si chiamavano tutti i testimoni oppure davanti all'annunzio apostolico in un'altra nazione dove magari non c'erano vescovi preparati per questa operazione ed era nel caso del padre Francesco Zirano e allora già questo tentativo fatto da questo fratto Servanti Antonio Dassa era già un tentativo di voler introdurre la causa di fatto viene iniziata la causa nel 1731 dei fratti minori commentuali però essendoci il dubbio a chi appartiene questo fratte allora per quel motivo praticamente poi anche i fratti minori commentuali passano un periodo nero dove dal 1760 al 1831 da 30.000 fratti che erano non rientrano ad essere neanche a 1500 ci avevano altri problemi a cui pensare e non alla causa poi nel 1984 1984 lei e l'arcivescovo di Sassari riscoprite questa figura allora cosa è capitato il ritardo anche dell'introduzione della causa è dovuto a tutto a questo perché sino al 1984 o meglio 76-77 del martirio del pariserano c'erano appena due relazioni poi hanno incaricato me che non è che mi abbiano dato tanto tempo per fare le ricerche io prendevo i miei 20 giorni di ferie che ci avevo ogni anno e andavo in Spagna a consultare gli archivi fortuna voluta di essere imbattuto in documenti per cui tra lì e tra Valladolid archivio generale di Simancas e Barcellona Madrid ho trovato sette o altre sette o otto relazioni del martirio in più tanta documentazione che dice tutto il contesto anche il nome della nave in cui lui ha viaggiato dalla Spagna all'Africa eccetera tante di quelle cose per cui quando i periti storici anche della congregazione si sono trovati in fronte a queste documentazioni dicono beh la documentazione sul martirio è esaustiva più di così non si poteva trovare e quindi ecco da quel momento la causa è proceduta celermente per cui 2003 i periti storici hanno detto non fa una grinza tutta la documentazione è fondamentale sul martirio 2013 quindi dieci anni dopo i consultori teologi hanno salvo uno che ha sospeso il giudizio se fosse morto per motivi politici o per per avere o per la difesa della fedeltà la fede cristiana tutti hanno detto no è morto veramente martire in odio alla fede ascolti ecco su questo punto mi pare in questi in questi giorni queste cose sono state ripetute visto che siamo nei giorni della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII e si dice che per diventare beati ci voglia un miracolo per padre Francesco Zirano pare che questo non sia avvenuto a cosa stanno le cose la legislazione ecclesiastica in merito a una causa di canonizzazione si chiamano così anche se il primo traguardo è la beatificazione ecco prevede che per i martiri basta il martirio praticamente il miracolo della fedeltà apprezzo del sangue per la beatificazione però per la canonizzazione ci vorrà il miracolo ci vorrà ecco ci vorrà un miracolo invece per i confessori padre di famiglia persone non sposate vergine eccetera ci vuole sempre il miracolo quasi a conferma delle virtù in grado eroico che loro hanno esercitato quindi lei non ha dovuto andare alla ricerca di miracoli no però ecco posso dire che ho raccolto varie testimonianze di persone che hanno ricevuto grazie da lui non strabilianti chi per esempio mi ha sorpreso gente che aveva bisogno di vendere la casa perché non sapeva come fare per vivere un altro e quindi Dani non riusciva a vendere un altro che non riusciva a pagare le bollette e tutte le tasse che gli erano arrivate ha invocato lui si è risolto e poi altri addirittura hanno ricevuto la pace la pacificazione in famiglia o il ritorno la fede di un proprio caro cioè aspetti della vita del padre Zerano lui che ha faticato tanto per simulare i soldi per liberare il cugino ecco che adesso diciamo è aperto a coloro che ti chiedono ma che hanno bisogno del pane quotidiano scordi che differenza c'è tra il culto venerazione non culto venerazione per un beato e venerazione per un santo che differenza ecco allora è questo intanto anzi dobbiamo dire la venerazione del beato è preceduta da una devozione personale la chiesa proibisce in maniera assoluta che un fratte un prete cioè uno del clero si faccia promotore di un culto insieme a una comunità anche se fossero tra quattro da soli ogni credente che lo crede beato in cielo può già invocarlo può già prendere il modello della sua vita però non deve interpellare la gerarchia al riguardo né papa né vescovo né alcun sacerdote invece quando viene innalzato agli onori degli altari e quindi magari viene posto un quadro che lo raffigura come martire nel caso nostro allora viene esteso il culto e quindi si può celebrare la messa in suonore liturgia delle ori in suonore ogni anno e questo però il culto viene esteso in maniera circoscritta per esempio per la Sardegna io credo dioci di Sassari senz'altro penso anche tutte le dioci della Sardegna e penso senz'altro la famiglia francescana il culto invece quando viene proclamato santo uno allora è a tutta la chiesa che diciamo il papa mostra il santo come modello di virtù quindi come maestro di vita cristiana e diciamo a tutti dice guardate che è un avvocato preso di un amico di Dio che voi potete rivolgervi questa è la differenza ascolti in febbraio lo scorso febbraio la congregazione per le cause dei santi ha emanato mi pare il decreto dove lo dichiara il 7 febbraio lo dichiara beato lo dichiara beato e adesso qual è il percorso per arrivare alla celebrazione del rito di beatificazione allora praticamente il 7 febbraio il papa francesco ha autorizzato il prefetto della congregazione delle cause dei santi angelo amato a pubblicare il decreto di beatificazione però per il momento non viene tributato ancora il culto pubblico con il 12 ottobre col rito di beatificazione quindi una messa solenne fatta in Sassari in un luogo pubblico dove possa raccogliere forse anche decine di migliaia di fedeli ecco rito di beatificazione da quel momento il culto pubblico è permesso e nel frattempo che cosa stiamo facendo noi beh stiamo preparando diciamo alcuni opuscoli magari un semplice pieghevole una biografia magari di 40 50 pagine un'altra biografia magari di 150 200 pagine e poi magari ricordini che possono servire i cosiddetti santini immagini con cui c'è o la rappresentazione del beato o la rappresentazione del suo martirio o altra scena della sua vita e dietro nel retro sempre una preghiera a lui in quanto beato che si possono chiedere anche grazie a lui padre Umberto un'altra cosa in genere i beati i santi vengono nominati patroni protettori di una categoria di persone ecco se dipendesse da lei ecco padre Zirano di chi lo faremmo protettore patrone io lo farei protettore dei sequestrati protettore delle famiglie che hanno un sequestrato perché lui il sequestrato ritorni in libertà lo farei anche protettori tutti quei cristiani in particolare perché loro hanno la fede cristiana penso gli eritrei cattolici o altri del sud del Sahara che vengono verso il Mediterraneo e che vengono intercettati e schiavizzati per attraversare il Mediterraneo diciamo dall'Africa a Palermo alla Sardegna con i mesi normali tu paghi quanto? 100 euro mentre lì ti chiedono 3000 3000 dollari e roba del genere ecco protettore anche di queste persone ma io direi anche lui che diciamo è andato in Africa perché il cugino non perdesse la fede lo farei protettori di tutti coloro che sono catechisti sacerdoti catechisti genitori che sono preoccupati in ansia per la fede dei propri cari o dei ragazzi o dei giovani che vengono affidati loro nel cammino della fede e ne avrebbe di di fedeli che possono invocarlo padre Umberto l'ultima domanda quindi l'attualità di padre di Francesco Zirano consiste in che cosa? consiste nell'essere lui contemporaneo nostro lui è vivo presso Dio tu gli chiedi una grazia detto ha fatto cioè non è che devi aspettare anni per il santo è colui che magari se è una guarigione istantanea te la dà subito questo è ovviamente ci vuole la fede e Dio la concede una grazia così grande e strepitosa ma anche altre grazie quando vuole lui perché delle volte noi chiediamo grazie che ci danneggerebbero se venissero concesse e allora lasciamo a Dio di stabilire lì quando è quella giusta per noi ringraziamo padre Umberto siamo alla fine della nostra puntata padre Umberto ritorneremo su questo argomento in attesa del 12 ottobre del 2014 quando padre Francesco Zirano se l'abbia attificato grazie padre Umberto ci ha dato ci ha fatto sapere finalmente la vita di quest'uomo martire per la fede io ringrazio voi ringrazio anche questa tv che trasmetterà via internet diciamo questa intervista e auguro che tutti coloro che tornano con questa trasmissione possano ricavare magari una luce per il loro cammino di fede e se non altro anche avere motivi di essere solidali verso chi vive momenti difficili o situazioni addirittura tragiche grazie appuntamento alla settimana prossima grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti